Ciao a tutti, io sono Tecla e in questo video andremo a vedere la nuova funzione di Tableau Server o Tableau Online 2020.2, le metriche. Questa funzione ci permette di isolare una metrica in particolare di nostro interesse all'interno di una dashboard pubblicata. Dunque, per provare questa nuova funzione abbiamo bisogno di pubblicare su Tableau Server o Online un workbook. Io per esempio pubblicherò il workbook di default di Tableau Superstore. Lo apriamo, pubblichiamo sul nostro server e ho creato una cartella metrica dove pubblicarlo. Quando viene pubblicata si apre in automatico una nuova finestra browser con aperto già il workbook che abbiamo pubblicato. Abbiamo dunque la prima dashboard del workbook e vediamo insieme questa nuova funzione che troviamo in alto a destra con nome metriche. Cliccando su questa nuova funzione ci si apre un box a lato della dashboard a destra nel quale avremo l'anteprima della metrica che andremo a creare. Per esempio, scegliamo la regione Toscana. Vedremo nell'anteprima che ci ha stampato, in questo caso la latitudine, ma noi possiamo scegliere tra le metriche che ci sono all'interno del grafico, in questo caso una mappa, quindi avremo la latitudine, la longitudine e il tasso di profitto. Possiamo scegliere il nome della nuova metrica. Possiamo fare una descrizione. in questo modo. Ci indicherà in quale progetto viene pubblicata questa metrica. Di default lo pubblica nella stesso progetto dove c'è il workbook, ma noi possiamo andare a scegliere un altro progetto in questo modo. Poi, cliccando semplicemente Crea, verrà creata questa nuova metrica. Proviamo a crearne un'altra. Per esempio, da un altro grafico dove abbiamo le vendite o i profitti, come al solito possiamo scegliere il nome con quale andiamo a pubblicare la nostra nuova metrica, una descrizione. Possiamo scegliere in questo caso solo tra vendite e profitti e abbiamo una dimensione, che è il mese, cioè il nostro asse del grafico. Verrà sempre pubblicato nel progetto metrica. Creiamo anche questa metrica e andiamo a vedere il risultato direttamente nel progetto. Come vedete, abbiamo il workbook che abbiamo pubblicato, più due nuove tab che sono le nostre due nuove metriche che vogliamo tenere d'occhio in particolare e possiamo anche inserirli tra i nostri preferiti. Cliccando sopra le metriche avremo un grafico dove abbiamo, in questo caso, la distribuzione delle vendite per il mese. A destra vediamo il proprietario, cioè chi ha creato questa metrica. La descrizione che in questo caso non c'è, ma facciamo sempre in tempo ad aggiungerla. Ci indica da quale workbook è stata creata la metrica, ci indica la definizione, quindi la misura che vediamo e la dimensione su cui è partita, il progetto in cui è pubblicato, la data e l'ora in cui è stato creato o comunque è stata fatta l'ultima modifica e si può aggiungere un tag alla metrica. Un'altra importantissima opzione che abbiamo è condividere questa metrica con altri componenti. Io per esempio la manderò a me stessa. Possiamo anche scrivere un messaggio e un semplice clic che condivideremo con chi abbiamo scelto. In questo momento mi è arrivata un'email che mi dice appunto che ho da visionare questa metrica. Cliccando su questo bottoncino arancione mi si aprirà direttamente la visualizzazione della metrica che mi è stata condivisa oppure apriamo dall'applicazione mobile di Tableau e vedremo che abbiamo due metriche, le due metriche che abbiamo creato. Questo flag è per indicarmi che è tra i preferiti e poi abbiamo il nostro workbook Superstore che abbiamo pubblicato. Se noi andiamo a scegliere le vendite si aprirà appunto la nostra metrica. Sarà esattamente come lo vediamo dal PC e in più se lo apriamo come in questo caso con lo smartphone o con anche un tablet abbiamo questa funzione regola e confronta nella quale possiamo avere queste scelte. in intervallo di dati, date, vedere, quindi gli ultimi 12 mesi, gli ultimi 60 oppure tutto il periodo, quindi scegliamo tutto il tempo per esempio. Possiamo scegliere il confronto, il confronto col mese precedente, l'anno precedente o nessun confronto e scegliamo di mostrare la linea. Tornando indietro vediamo che abbiamo una linea grigia che prima non c'era che è la linea del nostro confronto con l'anno precedente come abbiamo scelto.